Amici, finalmente ci siamo. Prima esperienza, si va a caccia di tartufi. Ci aiuterà lei quindi? Come si chiama? Macchia! Non so se è grande o piccolo, ma qua c'è il tartufo. Qui c'è. Ah, questa qua? E' brava Macchia, è brava. Comunque vedete, è un normale sentiero, per noi, è una distesa di tartufi. Sanca, mamma mia! È netta la differenza, eh? Siamo arrivati a casa di Adriano, che è il tartofaglio. Siamo nel suo laboratorio. Vedi, questi sono andati accoppiati, vedi? Che figata, non so se siete pronti a vedere il tartufo. Benvenuti da Appennino Food Truffle. Oggi impariamo a pulire il tartufo. Vai in profondità del tartufo dove vedi delle macchie nere, che quella è la terra d'origine. Voilà, che bello agnetto. Si pranza in un posto magnifico. Si è. Eccoci giunti alla fine di questo video, di questa esperienza incredibile. Ciao raga.